Dalla notte dei tempi l'umanità cerca se stessa all'interno della propria anima e questa ricerca è stata immortalata in maniera straordinaria proprio da Dante, che si è rivolto non solo ai nobili, agli intellettuali, ma al volgo, a tutti coloro che avessero avuto piacere di intendere. È quello che ha fatto il Marchese Villa Palavicini nel suo parco. Il suo parco inizia con questo viale, che è chiamato viale gotico, che rappresenta proprio la selva scura. Il momento durante il quale ci si perde, forse in una lieve disperazione del vivere che non ci dà tregua e che può essere soltanto, secondo Michele Canzio e il Marchese, risolta facendo un tuffo liberatorio all'interno della natura. E questo è tutto quello che fa il parco Palavicini per voi.